Danzare in bilico Che? Danzare in bilico Chi è sciato? Mettra metto granata Aspetta ma tu quale sottoclasse qual hai fatto? Assaltatore o difensore? Che? 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, no! Oh, boy! Questo tizio, oh, boy! Paralizzato! 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 Non capisce! È fuori! Ecco perché! No, no, no! 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 Povera bestia che sta in questo qua che sta in sta non vedo mani fatta una mamma lo stai offre il video si è messo a sballare anche lui che cosa è completo dai già mi romanzo sono tozzo gioina la rivoluzione povero già mi romanzo oh my god oh my god oh my god oh my god questo è il meglio karma bullet salutare sotto voi no non ci abbandonare karma bullet cosa vuoi fare nooo oh yeah e si continua con l'insanità e si continua con l'insanità